Una nuova segnaletica per una città più bella. Così il sindaco Franco Alfieri ha annunciato in una nota stampa riguardo la sostituzione della segnaletica stradale esistente in disuso sul territorio comunale di Capaccio Pestum. La promozione e valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso un'attenta manutenzione e conservazione del decoro urbano, sottolinei Alfieri. Una città come Capaccio Pestum, nota in tutto il mondo per la bellezza dei suoi beni culturali, deve avere un aspetto esteriore curato in ogni suo aspetto. Per questo motivo procederemo gradualmente a eliminare la segnaletica pubblica e privata in disuso e a sostituirla con una segnaletica chiara ed esteticamente coordinata. Regolamenteremo anche il posizionamento della nuova segnaletica per avere un passaggio organico e visivamente gradevole. L'intervento è volto anche a migliorare le indicazioni turistiche dei luoghi di maggiore interesse della città dei templi.